Fiamme nella notte a Eboli in via Pio 9 dove un rugo ha distrutto l'auto del sindaco Massimo Cariello. La vettura, un Audi A4, era parcheggiata nei pressi dell'abitazione ed è stata completamente distrutta dalle fiamme. Pochi dubbi sull'origine dolosa del rugo che ha danneggiato anche altri tre veicoli in sosta. Amareggiata la fascia tricolore salernitana con Cariello che lascia intendere che dietro l'episodio potrebbero esserci vendette per alcune scelte impopolari adottate dal comune per il rispetto della legalità. L'episodio è inquietante e mi fa un po', mi ha lasciato davvero stupito diciamo che quello che è stato perché subire un atto del genere poi innanzitutto sotto casa con mia figlia che stava dormendo a fianco a me e quindi andiamo avanti questo vuol dire che stiamo facendo delle scelte importanti e significativi nel rispetto delle regole e nessuno ci ferma. Io lo dico apertamente, l'ho detto anche alle forze dell'ordine in alcuni contesti, cito uno per tutti, quello diciamo del rispetto della gradatoria per l'assegnazione delle case popolari lo stiamo portando avanti nel rispetto dello stesso e poi in modo particolare anche con una serie di sfratti importanti e significativi che abbiamo fatto alla cittadina. Prima poi stiamo lavorando su vari fronti molto delicati che non vorrei qui elencare perché non voglio dare diciamo individuare in uno di questi fronti diciamo delle responsabilità, tutti fronti molto delicati e molto attenzionati sui quali noi siamo convinti diciamo che quello che i percorsi che abbiamo intrapreso appunto nel rispetto delle regole e forse questo dà fastidio a qualcuno.